bella raga siamo su fortnite come vedete in alto a sinistra finax e psgr probabilmente vedete i nick di discord cosa succede se andiamo sulla favore non lo sai? no ci sono andato però scende raga non c'è bisogno di che ho vinto più qui niente siamo su fortnite a cazzeggiare per andare a pinnacoli scendere e uccidere qualcuno cerca di uccidere qualcuno e morire in fretta così da ristartare ecco i nabbi come fanno se vuoi andare qua io alla fine no 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 io non so al campano non c'è provante tra poi ora dopo 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 ciò dopo ciò sei sopra sì no a cascato di soldi non hai cascato fila te fila te dopo le armi io ho preso le vende non ho preso le vende vabbè senti andiamo giù e te faccio tutto aspettiamo i studetti non lo so uno che fa il rush del dio allora tu scia casissimo madonna sai mi serve un po di band che ho dovuto decidere stato pieti questo sembra qualcuno si impula un bel po pronto a sparare come c'è la gianco verde io c'ho solo 35 colpi e una kill e penso uguale io zero quello che è cascato di sotto non mi dichiarà quello è probabilmente l'hanno ripurato no mi sa che era questa allora no 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 era una donna ok dopo rivedrò nel video o non è piaciuta di la preside questa una coppia in continuazione ma per favore qui o ci avessi preso una volta avesse preso una volta gg oh pure in questa casetta non è male c'è una casa comunque hanno messo l'uscia dell'acqua vanno tutti lì eh no fino a fine non c'è andava vai 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 dove sei? eh ma sono due andiamo in questa altra casa oppure qua sotto un'altra casa dove andiamo sempre ah sei lo cambio in diretto lo cambio in diretto c'è una cisterranea che ti fa una cassa due per te c'ho io ho due più pistole sì ho poi due studenti piccoli c'è quello grosso te allora c'ho quattro di quelli piccoli abbiamo ricordato questo segreto no io ce l'ho scudo a 50 a parte che qui forse si stanno ah qui sotto faccia le granate le vuoi che vuoi che fanno però non c'è un paio di granate la sua che dici e si come se come non c'è indietro ah non c'è l'idea no c'è se c'è un paio oh oh c'è il mano ha sparato dove è? non so da sopra oh da sopra 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 entra 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 stai attento eh sali 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 oh cazzo questo è un po' si forse una cassa si forse una cassa si forse una cassa si è toccata una volta no 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 c'è pure lo scuola a caviarmi ha fatto proprio la trappola ha fatto proprio la trappola si è toccata una trappola avevo shaltato questo tipo perchè io avevo una meterghietta leggera io ho fatto un caricatore sulla testa si po' 10 divisa eh che sfiga mamma mia scarsi duri scarsi duri si è preso pure le armi ne penso abbracciare in piedi vita ho scertato 10 oddio l'ho ucciso madonna 2 di vita vieni dentro vieni dentro c'è una barriera aspetta io sono le pistole, questo è il punto io ho 21 colpi di 1 e 48 decolati andiamo qui decolato il palazzo c'è una roba verde guarda 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 decolato il palazzo di qua, di qua, di qua, guarda metti qualcuno 30 io ho tolto metti solo le pistole ho ucciso, un colpo vabbè, vabbè questo mi ha sciottato dall'alto con un colpo, io l'ho colpito e ho tolto tipo 30 vabbè io ho finito con un paio di kg vabbè raga è tutto per oggi ci si vediamo al prossimo video come sempre lasciate un like o un commento e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale bella ci si vediamo al prossimo video ciao 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 ciao